Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Dopo anni e anni ho appena rivisto Profondo Rosso e cazzo che film. Ne parliamo istantaneamente, ma prima, come sempre, sigla! Il trauma è un occhio che vede. Trauma è testimonianza, ma anche sogno è il significato del tedesco Träume. Traumatico è un evento che si inscrive nel soggetto come un geroglifico, un'orma incancellabile che chiede incessantemente di essere trattata, rimossa o inclusa nel flusso narrativo di colui che ne è segnato. L'impossibilità di rimuovere un trauma, di cancellarlo dalla coscienza, come accade nei soggetti psicotici, comporta una ripetizione sempre uguale dell'evento che si è impresso sotto forma di incubi, allucinazioni o attraverso la messa in scena seriale e letterale del trauma stesso, nel tentativo impossibile di farne qualcosa, di elaborarlo simbolicamente. La messa in scena vorrebbe addomesticare, depotenziare l'evento, mettere distanza tra lo stesso e il soggetto, ma questa dinamica in alcuni casi si traduce in una riproposizione continua del contenuto traumatico così come è avvenuto, senza mediazione, senza trasformazione. Nel 1975 Dario Argento mette in scena il suo film fino a quel momento più teorico, un'opera lucidissima sullo sguardo e sulla percezione, sull'impossibilità di rimuovere, di dimenticare. Profondo Rosso è a tutti gli effetti un film sull'impossibilità di salvarsi, di sopravvivere al trauma. Così il regista si serve di personaggi che hanno visto cose, che sanno vedere oltre il visibile, che hanno dimenticato, ma non del tutto per raccontare l'insistenza tragica e inesorabile di un reale che si ripropone sempre uguale perché scritto indelebilmente nella carne dei suoi testimoni e protagonisti. Storia di fantasmi che tornano sempre nello stesso luogo e ripetono sempre le stesse azioni. Profondo Rosso è in tessuto di dettagli macroscopici, di un'attenzione ossessiva, ripetitiva, quasi morbosa per quello che si trova ai limiti del visibile. Parti di oggetti e di corpi che non inquadriamo nella loro totalità, ma che restano appunto pezzi, frammenti. Ingrandire il dettaglio fino a fargli occupare tutto lo schermo sembra rispondere all'urgenza di guardare dentro, di entrare in profondità. Proprio quello che cerca di fare il protagonista, Mark Daly, alle prese con dettagli che non tonano, con porzioni di immagini e ricordi che non riescono ad incastrarsi in una visione unitaria capace di dare un senso al mistero in cui è coinvolto. Il mistero di Profondo Rosso non ha a che fare con l'identità dell'assassino, la cui schizofrenia a tratti perfino caricaturali si manifesta nella ripetizione di frasi e nella messa in scena ciclica di un evento avvenuto molto tempo prima. Quello che sembra stare a cuore al regista è il confronto con l'impossibile, la distanza incolmabile tra sguardo ed evento, tra soggetto e oggetto. Così nel prologo del film lo spettatore assiste indirettamente ad un omicidio. Una volta entrato nell'appartamento della sensitiva Helga Ullman, Mark non si accorge di aver visto l'assassino riflesso in uno specchio e aver scambiato il suo viso per uno dei volti mostruosi e ritratti in un quadro che poi, pensa, sia stato fatto sparire o spostato. Mi viene la pelle d'oca che sono parlante. Chi guarda dunque perde sempre qualcosa, c'è sempre un dettaglio cruciale che sfugge inesorabilmente. Proprio come accade nella casa del bambino urlante e a lei con la pelle d'oca. Qualcosa non torna nella planimetria della villa, alcuni dettagli sembrano non quadrare e proprio l'ostinazione di Mark, la sua tenacia nel voler andare a fondo e sapere a ogni costo, gli consente di scoprire la stanza murata e il cadavere. In questa scena Dario Argento rappresenta in modo molto efficace il ritorno del rimosso e sembra suggerire che questo sia spesso portatore di distruzione e rovina. Non a caso la villa è distrutta dalle fiamme poco dopo la scoperta. Chi guarda perde sempre qualcosa, che riesce a vedere con precisione gli eventi, è proprio la sensitiva Heiga Ullman. Le sue capacità telepatiche, che nel film diventano oggetto di un convegno in una tra le prime scene, le consentono di entrare in contatto con la mente dell'assassino e arrivare a conoscere addirittura il nome. Chi può vedere chiaramente, sembra dire resista, è solo chi non si serve dei propri occhi. Curiosamente, molti anni dopo, in occhiali neri, Dario Argento fa una riflessione analoga. La serie di omicidi rituali, collocati quindi in una dimensione di rievocazione del trauma originario, prende origine proprio successivamente alla scena del convegno. Ognuno di questi è preceduto dall'ascolto della ninna nanna che lo stesso assassino aveva ascoltato nel momento in cui il suo scompenso aveva avuto origine e che ripropone a ogni vittima affinché questa la ascolti e si collochi il suo mai grado nel quadro dell'evento scatenante. E se la verità è potenzialmente fatale, ed Heiga è la prima a scoprirlo, anche chi prova a colpirla, nascondala, non subisce sorte, è migliore. Il personaggio di Carlo è in questo senso esemplare. Non solo, spoiler, ma cazzo, il film è uscito prima che io nascessi, se non l'avete mai visto lo spoiler ve lo meritate. Dicevamo, Carlo tenta disperatamente di nascondere la colpevolezza della madre, prigioniero di un legame simbiotico, ma passa la sua vita a occultare perfino a se stesso il proprio orientamento sessuale, la propria identità. La sua morte è una delle più sadiche e feroci della filmografia argentiana, un supplizio infinito che somiglia al martirio che lo stesso Carlo si era fino a quel momento autoinflitto. L'autore non fa sconti, esibisce ogni segno a cielo aperto, ogni tratto traumatico così com'è, senza mediare, senza alcun filtro. La finalità sembra essere dichiarare l'intrattabilità del trauma, la sua resistenza ad ogni tentativo di simbolizzazione. Il trauma è quello che è, si è impresso come traccia su una retina, obbligatorio guardare, a questo proposito, quattro mosche di velluto grigio del 1971. La rievocazione dell'evento traumatico, la discesa nell'inconscio porta solo devastazione. Questo postulato sembra in antitesi alla necessità di operare una ricognizione alla ricerca dell'origine del proprio dolore. La verità è materia da iniziati, come suggerisce la figura di Ega. E anche a quel livello l'incontro può riverarsi fatale, in quanto Dario Argento fa coincidere trauma e verità. La verità è traumatica, sempre, anche sfiorarla può essere insidioso. Molti film del regista rappresentano un percorso iniziatico, una via stretta costellata di ostacoli e pericoli che i protagonisti vedi suspiri e fenomeno. Personaggi apparentemente senza qualità particolari percorrono cercando l'uscita dal labirinto. Ma per uscire dal labirinto bisogna prima arrivare al centro che coincide con la scoperta di sé. Se in suspiri a questo avveniva attraverso la rinascita iniziatica di Susi in strega, in profondo rosso la trasformazione di Mark ci viene suggerita dal suo riflesso nella puzza di sangue lasciata dal cadavere dell'assassino decapitato. In entrambi i casi viene ucciso una madre terribile, portatrice di morte, follia e caos. Per rimettere in ordine è necessaria un'operazione di distruzione imprescindibile per poter rinascere. I personaggi di profondo rosso. Curiosamente il personaggio di Gianna Brezzi, interpretato da Dare Nicolodi, sembra essere una sorta di facilitatore di Virgilio che accompagna Mark nelle profondità di sé stesso alla scoperta del rimosso e dei propri demoni. Anche se assenti all'apparenza le qualità del protagonista si mostrano parallelamente al dipanarsi della vicenda. La sua abilità con la musica per esempio gli è di aiuto nel reperire la melodia che l'assassino utilizza prima di ogni delitto. Intorno a lui un esercito di inetti su tutti ovviamente le forze dell'ordine. La verità da intendersi in senso simbolico nel cinema di Dario Argento ha lo statuto di divinità Inferno 1980. Ne è un esempio di forza purissima. Il parallelo che viene subito alla mente per uno come me o come Luca Prandini è Perseo nella lotta contro Medusa che si serve della superficie riflettente dello scudo. Così Mark si avvicina alla verità attraverso un riflesso grazie a uno specchio. È per questo che riesce a sopravvivere, a non perdersi nel labirinto e a uccidere il mostro. Ma quel sangue che si sparge nel finale e che macchia indelebilmente l'immagine di Mark ci indica che la luce e l'oscurità sono due lati della stessa medaglia e che ciò che il protagonista ha scoperto, i segreti che gli sono stati rivelati, hanno a che fare con qualcosa di molto intimo, di personale che non potrà più non vedere. Uccidere il mostro in altre parole significa assumersene la responsabilità. Ci è molto parlato e scritto di una presunta esibizione dell'elemento necroscopico nel cinema di Dario Argento, la passione per il macabro, per il sangue mostrati in primissimo piano, addirittura in dettaglio. Ma questo non è altro che un modo di insistere sul profondo, sull'insondabile, sulla morte come elemento reale. Un'indicazione precisa come avviene in Inferno, peraltro, di guardare sotto la suola delle nostre scarpe invece di avere l'intelletto, la ragione come unica guida. Inevitabile pensare alla discesa di Jennifer Corvino nelle viscere della Terra appesa al filo telefonico di Arianna in Fenomena del 1985 o all'esplorazione verticale degli abissi in cui alberga Mater Tenebrarum all'inferno, in inferno, scusate, e l'integrazione degli opposti è l'unico modo per superare le prove all'interno del labirinto e uscirne vittoriosi. La passione per il macabro, che molti riconoscono o rimproverano a Dario Argento, è quindi un segnale, uno sguardo preciso puntato verso la notte per recuperare una coscienza allargata. In profondo rosso molte cose oscure succedono di notte, esplorazioni, omicidi, dialoghi sul senso della vita, rivelazioni illuminanti. Le notte argentiane sono uno scrigno di saperi, di verità, pronte a svelarsi agli occhi di chi sa vedere oltre alla superficie delle cose. Di giorno, al contrario, tutto cambia, lo stesso registro filmico si fa più convenzionale, bidimensionale, privo di libera associazioni. L'impermeabile Nero dell'assassino dà l'impressione di essere avvolto intorno alla notte e di essere a sua volta inghiottito dal buio delle strade torinesi. La città vuota, notturna, fotografata magistralmente da Luigi Covellier non è solo la cornice alle vicende, ma è protagonista e inghiotta i personaggi e gli spettatori allo stesso tempo. Il film si conclude non a caso con la formula avete visto profondo rosso, vale a dire siete stati testimoni, avete compiuto un viaggio, avete visto oltre la porta e il vostro modo di vedere le cose, di inquadrare la realtà, forse non saprà più lo stesso. È innegabile a questo proposito la novità rappresentata dallo sguardo del regista, la sua attenzione a dettagli apparentemente insignificanti che in profondo rosso trova la sua prima espressione, una serie quasi rituale di inquadrature macro, di fotogrammi riempiti da oggetti, formi, corpi tagliati, lame, superfici riflettenti, occhi, bocche, denti, sangue. Abbiamo visto oltre la soglia, là dove il buio si addensa, dove la verità si nasconde senza alcuna certezza se non la volontà di conoscere, di arrivare in fondo, di trovare il centro. E con questo si conclude anche questa puntata leggerina di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.